Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua su un nuovo gioco, Ashina the Red Witch Un gioco molto interessante che volevo già portarvi da un po' Allora, il gioco intanto lo trovate, è free to play il prologo E il gioco Ashina the Red Witch è ancora in arrivo, quindi non è ancora uscito Però intanto se volete giocarvi il prologo, perché no? Il gioco è in inglese, ve lo dico già E vi dico anche di che cosa parla Allora Vediamo un pochettino di che cosa parla il gioco così vi fate anche voi un'idea Allora, la storia parla di Ash, una ragazza normale che intraprende un viaggio attraverso un misterioso mondo spirituale, pieno di strane creature Ash deve trovare la strada per tornare a casa, prima che qualcos'altro la trovi Ok, ragazzi, bando le ciance e iniziamo il gioco Naturalmente mi muterò, così vi lascio tranquilli a vedere la demo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti